A seguito dell'approvazione in Consiglio regionale della nuova legge sulle acque e minerali naturali, il Vicepresidente della Giunta regionale, Roberto Morroni, illustra gli elementi più innovativi della normativa. Credo che ieri l'Assemblea legislativa dell'Umbria, con l'approvazione di questa proposta di legge, abbia fatto un passo in avanti importante. Sono diversi i punti che innovano il quadro normativo in materia di acque e minerali per la nostra regione, il principale fattore di cambiamento che abbiamo introdotto è stato quello di aver previsto per il rilascio delle concessioni una procedura di evidenza pubblica e in questa maniera abbiamo allineato la nostra normativa a quelli che sono i principi comunitari e nazionali in materia di concorrenza. Credo che questo sia un tratto qualificante della norma. Accanto a questo abbiamo cercato anche di prevedere una serie di norme che debbono tutelare al meglio un'esigenza che è quella che la presenza di tali impianti, di tale attività nel territorio della regione possa trasformarsi in maniera più significativa in un'opportunità di sviluppo dei territori stessi. E quindi abbiamo scandito con molta nettezza quali sono i criteri che fungono da base per poter divenire la scelta tra un potenziale concessionario o l'altro. Quindi il tema dell'offerta più vantaggiosa. Abbiamo previsto un adeguamento dei canoni in base all'Istat e anche questo credo che sia un cambiamento importante i canoni che le aziende versano alla regione perché dal 2008 questi erano immobili, erano fissi quindi l'adeguamento annuale crediamo che sia un passaggio anche esso importante. E poi un altro tema rilevante è stato quello della tutela della risorsa. Abbiamo previsto l'effettuazione di studi del bacino al fine di valutare sia la qualità che la quantità delle acque sia in occasione del termine di una concessione. La concessione è una durata di 25 anni quindi almeno 24 mesi prima che la concessione vada in scadenza il concessionario è tenuto a effettuare questo studio che è propedeutico per poter andare di nuovo a una nuova concessione per un ulteriore periodo di 25 anni. E abbiamo previsto altresì un momento anche di verifica ulteriore proprio a metà della durata della concessione. Quindi credo che anche questo sia un passo in avanti importante, un cambiamento particolarmente significativo rispetto all'impianto normativo precedente.